Buonasera a tutti, un saluto istituzionale da parte del sindaco della città metropolitana il dottor Luigi De Magistris, la vicinanza di tutto il consiglio metropolitano al popolo ischitano, alle istituzioni e ai presenti. È difficile intervenire in un momento particolare soprattutto dopo le testimonianze dei familiari delle vittime, in un momento particolare per l'isola e soprattutto anche all'esito degli eventi che ancora purtroppo vedono l'isola costretta e le persone costrette a non poter rientrare nelle loro abitazioni. Il nostro è un momento particolare, mi sento di condividere e sottoscrivere appieno il messaggio inviatoci dal Descovo Lagnese e particolarmente mi hanno colpito le parole di dignità con cui questo popolo ha affrontato questa problematica di coraggio e di forza e ritengo che le istituzioni che rappresentiamo e gli incaricati per far sì che si superi questo problema debbano affrontare la ricostruzione con la stessa forza, lo stesso coraggio, la determinazione. E allora non volendo essere più diciamo lontani, distanti, ma vicini con le opere, con i fatti, vi saluto, vi abbraccio soprattutto ai familiari delle vittime, rappresentandovi così come è sempre stato fatto dal primo momento la vicinanza delle istituzioni di città metropolitana. Noi ci saremo, ci siamo, ci siamo stati finché commissario, l'ultima pietra non venga alzata e le persone non si è data la possibilità di poter rientrare nelle proprie case. Un abbraccio, grazie, buonasera.